Idea tutta toscana quest'estate aveva avuto un grande successo nel portare i vaccini in spiaggia, i concerti e nei luoghi frequentati dai giovani. Il camper di Giovani Siri accende i motori e stavolta entra in azione in prossimità delle scuole per coadiuvare nella vaccinazione pediatrica. E' efficace come un piccolo hub ma più agile e più versatile. La prima nuova tappa alla scuola primaria Martin Luther King di Firenze dove c'è stato bisogno di un ulteriore rifornimento oltre le dosi che erano state previste. Ecco dove è più agile l'arrivo del camper come qui alla Martin Luther King, ecco l'iniziativa di stamani. Il fatto di aver dovuto raddoppiare le dosi e andarle a prendere è la dimostrazione che nella popolazione c'è un sentimento e una consapevolezza di quanto è importante la vaccinazione fra i bambini di 5-11 anni. Un impegno importante di regione toscana grazie anche a Giovani Siri perché sensibilizzare i genitori di queste bambine e di questi bambini è davvero fondamentale. La vaccinazione l'abbiamo ripetuto e detto più volte è un grande piccolo grande gesto di responsabilità e di solidarietà perché si va a difendere il bene e la salute delle bambine e dei bambini ma anche della società a partire dalle persone più fragili. Il valore aggiunto del camper è sempre lo stesso vaccinare certamente ma anche spiegare, convincere e semplicemente farsi prossimo ai dubbiosi con a bordo il proprio personale instancabile. Il camper di Giovani Siri regione toscana ha deciso di riprendere il suo viaggio per permettere ai bambini della Toscana di vaccinarsi in fretta e in sicurezza, permettere ai propri genitori di chiarire i propri dubbi. Insomma crediamo che in questo momento vi sia bisogno di prendersi cura delle paure, di cercare di rassicurare e di spiegare con i dati scientifici e con quello che i medici dicono come stanno le cose. Quindi i genitori aspettando i propri figli all'uscita delle proprie scuole elementari potranno parlare con i nostri operatori sanitari che instancabili continuano a guidare questa marcia contro il Covid.